Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo sulla storia di una donna che decide di fuggire da una relazione soffocante per inseguire il suo sogno di diventare una wedding planner ma si rende presto conto che questa impresa potrebbe essere più difficile di quanto immaginasse. Il libro mescola elementi romantici, viaggi ed esperienze culinarie, offrendo al lettore un'opportunità di evasione e di riflessione sulla realizzazione dei propri sogni e l'importanza di perseguire la propria felicità e di superare gli ostacoli che si presentano lungo il cammino. La trama del libro Amore, sole e champagne della scrittrice Julie Kaplan, pubblicato dalla casa editrice Newton Compton, è la seguente. In fuga da una relazione soffocante, Attie si è lasciata tutto alle spalle per rincorrere il suo sogno di diventare wedding planner. Il primo passo della sua nuova vita sarà organizzare il matrimonio della cugina in un incantevole castello francese. Giunta a destinazione però, Attie si rende conto che l'impresa potrebbe rivelarsi più ardua del previsto. Il castello, circondato da uno splendido vigneto, avrebbe proprio bisogno di una ristrutturazione, e la gente del posto non è esattamente amichevole. Che la sua carriera sia destinata a naufragare ancora prima di iniziare. Per fortuna a sollevarle il morale Celuc, l'affascinante figlio del proprietario del castello. Tra un picnic sotto il caldo sole francese, una gita gastronomica al mercato locale e un fresco bicchiere di champagne, avvolta nell'atmosfera romantica della campagna più bella del mondo, Attie inizia a chiedersi se quell'avventura non possa trasformarsi in qualcosa di più. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.